Ogni mille generazioni nasce un bambino dai magici poteri, così crede una setta orientale. Sardo Numspa, il male in persona, rapisce il piccolo per ucciderlo. Gli orientali si rivolgono a Chandler Jarrell, esperto californiano di bambini scomparsi. Convinto facilmente dalla bella Kinang, egli si trova coinvolto in oscure avventure che lo portano perfino in Tibet. Fenomeni esoterici provocano il male che si trasforma in un diavolo che Chandler sconfigge. Liberazione del bambino d'oro e lieto fine per l'eroe Eki.